Se sono fortunato, i nostri mi stanno aspettando all'avamposto nella chiesa abbandonata. Dirò loro tutto quello che so, su Pavel, su un qualche tipo di test che intendono condurre, e poi proseguirò per Octi a Burskaya. Il tetro si trova lì. Ecco qua, la palude. La base si trova dall'altra parte, dentro la chiesa. Da qui non la vedi. C'è un traghetto ad Argano, ma gli serve del carburante. Dovresti trovarne un po' all'aereo, al deposito del distributore. Resta fuori dall'acqua, se vuoi sopravvivere. Beh, è tutto. Buona fortuna, Artyom. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti